ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi faccio un video haul di aliexpress sono arrivati questi pacchettini e quindi volevo subito scartarli insieme a voi e allora iniziamo subito dal pacchettino più piccolo perché c'è qualcosa anche per mia mamma quindi vorrei vedere se mi è arrivato qualcosa anche per lei quindi iniziamo subito ad aprire questo pacchettino qui sono contentissima apriamo subito il primo pacchettino allora questo cosa sarà ma sì sì questa è la collana per mia mamma è venuta quella lì per il suo compleanno però va bene gliela darò prima semmai farò qualcos'altro comunque non vedevo l'ora di dargliela di dargliela ve la faccio vedere non la apro perché ovviamente si vede poi devo voglio dargliela già nuova diciamo ed è questa adesso che lei a mia mamma gli piacciono tanto queste collanine vi lascio sempre i prezzi qui in sovraimpressione così li vedete praticamente questa è la collanina con un angelo e con la borsetta adesso vi faccio vedere anche la borsetta come è fatta fatta così speriamo che la vedete ha la testa con una perlina e la corona e le scarpine e ha il vestito tutto fatto di questi brillantini veramente stupenda dopo se mai vi lascerò se ci riesco vi lascerò lo spezzone dove mia mamma l'ha aperto e vi faccio vedere insomma anche mi piacerebbe farvi vedere anche la sua reazione sarebbe bello adesso vediamo comunque questa qui è la collanina che ho fatto a mia mamma è abbastanza lunga quindi lei la può mettere su tutto il collo quindi la catenina deve essere abbastanza lunga dopo se mai come vi ho detto vi farò uno spezzone vi lascerò una foto ecco e questa è una sono contentissima almeno qualcosa anche per lei poi passiamo a un altro pacchettino questo qua che sembra più magro eccolo qui andiamo ad aprirlo vediamo cosa c'è dentro non mi ricordo cosa c'è perché non ho guardato più bene il sito oh sì questo lo aspettavo da tanto allora questo è carino l'hanno messo in questa confezione qua meglio così almeno lo posso tenere qua questo qui è un pennello doppio come vedete allora da una parte a questo qui che non è tanto grande per le ciprie io lo userò sì sempre per le ciprie e questo anche per fare il contouring insomma oppure anche per sfumare dopo bisogna vedere l'utilizzo come lo utilizzo questo che volevo utilizzarlo come passepartout insomma per per fare qualsiasi trucco questo chi è carinissimo mi era piaciuto tanto che non è tanto grande abbastanza piccolino io pensavo fosse più grande dimensione questa qua alle setole morbidissime non ve l'ho detto scusate alle setole morbidissime sia di qua che di qua la grandezza è questa è così e questo qui è un pochetto più piccolo un po più da sfumatura ecco vedete cicciotto e ha il manico in mezzo nero questo qui era carino uno sfizzietto insomma un pennello che posso utilizzare in qualsiasi modo andiamo avanti non vedo l'ora sono emozionatissima andiamo in quest'altro pacchettino piccolo che penso che sia un'altra collanina per mia mamma sono felice che gli arrivate perché le aspettavo tanto apriamo il pacchettino senza distruggere niente è così questa gli piacerà sicuramente che carino sono felicissima non vedo l'ora di fargliele vedere non vedo l'ora anche questa vi lascerò la foto se ci riesco cioè no è meravigliosa guardate quante bella cioè stupenda mamma ha avuto un'ottima ottimi mamma ottimi gusti era girata guardate quanto è carina cioè se a mamma non gli piace giuro che l'acciacco è bellissima ha le scarpettine così dorata con la borsetta dovrebbe avere ah eccola è nascosta c'ha la borsettina e questi due lantini così sarà felicissima è dorata questa invece perché mamma ha scelto anche il dorato gli ho fatti scegliere quella quell'angioletta l'ho scelto io che era il regalo in verità era per il suo compleanno però vabbè glielo darò prima non fa niente e poi gli farò un'altra cosa perché voglio fargli un'altra cosa perché quella lì in verità la volevo fare per la festa dalla mamma perché non gli ho fatto niente e questa qui è un'altra collanina carinissima guardate quanto è bella ha la collanina anche la colla la collana la collanina la bambolina con i brillantini guardate quanto è bella sto sicura che gli piaceranno tanto queste sono le collanine adesso ve le faccio vedere una per volta ecco questa è una quella lì ad angelo vestitine fatto così guardate quanto è bello faccio vedere anche dietro queste sono le ali è veramente bella la catena è lunghissima diciamo che va più o meno sotto l'ombelico ed è stupenda la borsetta è questa qua e poi c'è questa qui eccola qui allora queste sono le scarpine il vestitino è fatto così un po piegato però va bene lo stesso a questi fiorellini disegnati queste perline verdi e rosa queste cangianti la borsetta e la testolina insomma sempre con la perla e anche qui la catena la troviamo lunghissima vestitino è questo qua a mia mamma è piaciuto tantissimo sono stata tanto soddisfatta di vedere la sua reazione e ve le consiglio se volete fare qualche regalino per vostra mamma o in qualsiasi modo che le persone che a vostri cari piace questi qui ve li costra consiglio perché sono veramente fatti bene sono veramente belli rifiniti eccoli qui passiamo anche a un altro pacchettino eccolo qui questo a questo qui dovrebbe essere dal tatto dovrebbe essere la palette finalmente stanno arrivando vediamo un po che quale quale palette è sono tanto contenta vedevo proprio l'ora che arrivassero allora questa quale è che bella glitz glam ei e shadow guardate quante pelle è stupenda adesso vediamo la apro è sigillata vedete è venuta con questo pluriball col sacchetto col pluriball è sigillatissima adesso l'apriamo sono contentissima che sono arrivate eccola qui allora devo dire che l'incarto è fatto proprio su misura diciamo vedete è venuto strappare peccato la palettina si presenta così è un po sporca speriamo che non sia rotto niente dentro non ci credo guardate che meraviglia il pegagine è così non ve l'ho fatto vedere è uguale anche qua la scatola a queste foglioline rosa glitz glam ei e shadow beauty glazed guardate quante belle le cialdine sono abbastanza grandi e ha praticamente una parte di ombretti matt opachi e una parte di ombretti glitter glitter che più glitter non si può adesso andiamo a sbucciarne qualcuno anche qui vedete non ha lo specchio ma vabbè qui è rimasti i brillantini allora i brillantini devo dire che questi ce l'hanno come si chiamano un po di un po di gel diciamo qualcosa che rimane fisso forse io che sono un po sudaticcia però bellissimo guardate quanto brillano tanto i brillantini vi faccio vedere così nell'occhio immagino che meraviglia adesso vi faccio vedere i colori allora ci sta un borgogna un violaceo marroncino un arancione e un rosa chiaro adesso vi sboccio questo vediamo i colori madonna è pigmentatissimo bellissimo cioè stupenda questa è veramente consigliata adesso le metterò subito alla prova ci farò un trucco guardate il pegajin come glitterato anche questo bellissimo cioè ho fatto veramente bene a prenderla l'adoro ultimo pacchettino è questo qua non non so che quale quale palettina è perché vi sento che è una palettina che non mi ricordo questa è un po difficile ad aprire dice ma i nostri eroi ok ah no questa non è una palettina questi ho capito questi sono i rossetti liquidi ho preso di questa marca niche nice face dovrei averlo detto bene e ho preso questo questa palettina con questi questa palettina questa confezione con questi tre colori che volevo tanto provare perché c'era un colore che volevo in particolare che è questo grigio allora il pegajin della scatolina è così carinissimo io lo lascio li lascerò nella scatolina perché mi piace troppo e i colori come vedete sono questi un grigio un viola e un rosso marrone dopo vedremo perché non so di preciso cos'è e questi qui sono molto carini li ho visti in vari video e devo dire che sono bellissimi poi dice allora io inizio subito dal grigio allora il pegajin dei rossetti è questo qua non è tanto piccolo ma neanche tanto grande giusto questo si chiama 26 moonstone roccia di luna grigio vediamo un po com'è allora l'odore sa di biscotto l'odore sa di biscotto è bellissimo vediamo un po il grigio com'è ecco questo è questo il colore che volevo grigio dopo vedremo asciutto perché è matto ovviamente io soffio ogni tanto per asciugarlo subito e vediamo gli altri colori sono contentissima sono veramente felice poi c'è questo qua il pegajin qui un po rovinato però non fa niente questo è un viola si vedete questo è un pochetto troppo è un po liquido questo aspettate che lo sbatto un po questo è un po liquido speriamo che si asciuga lo stesso che non è solo un gloss vedremo questo è un po liquido ma questo non è che mi convince tanto ma vedremo se si asciuga comunque il colore era bello guardate che bello questo che era il colore l'ultimo è questo qua che dovrebbe essere un marrone sbatto pure questo non stessa mai si è un marrone perfetto quello che volevo io non volevo il rosso io volevo il marrone ed è questo qua dopo li vedrete asciutti vi lascerò lo spezzone niente questi sono per adesso gli acquisti che ho fatto se arriveranno altri acquisti altri pacchettini ve li metterò insieme ecco qua questi sono i colori asciutti veramente belli allora il grigio è così guardate questo si è abbastanza asciugato ci vuole un po per asciugarsi questo devo dirlo vabbè non fate caso che c'è i brillantini non so perché c'è i brillantini no perché è ancora bagnato poi io sono sudata quindi è un pochettino di sudore c'è sotto comunque il grigio è bellissimo era quello che volevo io volevo un colore grigio mi piace poi c'è questo viola che è troppo trasparente vedete è troppo liquido quindi risulta molto trasparente però non fa niente farò più passate magari e questo marrone qua guardate quanto è bello questo marrone asciutto è bellissimo quando è asciutto e questi sono i colori ecco qua mi è arrivato un altro pacchettino quindi lo unisco a questo video qui e volevo vedere insieme a voi che cosa mi è arrivato allora apriamo subito vediamo un po' oh sì questa qui era la collana che avevo ordinato ne avevo presa una sola perché avevo deciso di per adesso di prendere pochi bijoux ma la prossima volta penso proprio che la riempirò la casa la stanza di bijoux perché mi piacciono tanto allora questa è una collanina fatta in metallo dovrebbe essere o plastica non lo so come si chiama quel materiale adesso non mi sfugge tipo in filigrana ecco adesso mi è venuto in mente simile filigrana simile filigrana è fatta così io me la aspettavo più piccola invece è bella grande ed è fatta così ha questo disegno davanti questo giri goro davanti e ha questi questi altri pendagli non è rifinita benissimo però penso che sia è plastica comunque questo qui è l'ultimo acquisto che che fa che vi faccio vedere in questo video questa è la collanina mi piace tantissimo è veramente bella dopo ovviamente la voglio indossare e appunto è venuta in un pacchettino così infatti la cosa non è che mi è piaciuta più di tanto si poteva benissimo rompere è andata proprio benissimo dietro è fatta così ed è di questo dorato bronzo oro scuro ecco però non è male alla fine non è male questo è l'ultimo acquisto che vi faccio vedere su questo video qui se il video vi è piaciuto mi raccomando spolliciatemi tantissimo fatemi tanti commentini fatemi sapere qual è l'acquisto che vi è piaciuto di più e mi raccomando iscrivetevi per non perdere i nuovi video noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti